Oggi si inizia a fare un po' di movimento. Era ora, eh? Ed eccomi seduta qua, con questo tappannino bellissimo. Guardate, un vero ciclista. Ah, mi sono dimenticata di dirvi che siamo al parapens. Ricchiazza. Vi piace? C'era mia pelle! Ma che stifo! Ci sono le scale di là. Bene, eh? Questi sono gli altri. Vanno fino a su, 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 su in cima. Amo? Sei vivo? Ce l'hai fatta? Quante scole ci sono? Quante scole ci sono? Adesso un bel panino ci sta proprio. Buon appetito! Buon appetito! Per Patreon! Buon appetito! Buon appetito! sentire il timore dell'acqua proprio mi rilassa pedala pedala c'è pure una mascherina usata giornata 2 le avventure nel bosco insieme a mio marito anche oggi ciao mio marito saluta ciao ma che bel trattore vai è bello stretto correre in salita fa rassodare i glutei quindi se volete rassodare i vostri glutei correte in salita e non mollate mai ma che bel ponte qui sarebbe casa nostra? venite qua e mi saltano gli occhiali così per 5 minuti poi dopo facciamo 15 questo prima di mangiare i vostri glutei questo prima di mangiare così con molto appetito con un po' di stretching e su questo bel tavolino e su questo bel tavolino noi stasera ceniamo ho già preparato la cena e quindi mangiamo facciamo prima l'antipasto con il panino avanzato da ieri e dopo qua e qua c'è la vera cena buona e buona cosa hai mangiato hai capito cosa ho cucinato no non riesci a capire cosa ho cucinato e poi con? 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 miglio non è miglio eh? cos'è? è cuscuz ecco cuscuz un po' freddo sto gelando c'è una rietta qua sta fermi lì saltello saltello qui ne andiamo verso casa in realtà io non so andare in bici si oh oh è venuta USA 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 questo è tutto, ci vediamo alla prossima avventura, ciao! Aiaiai cos'è? Ma non ci credo che ti soffi il naso nel mio video. E su questo tavolino qua? Cos'è che c'è? E dopo... Aiaia!